Sono contento di essere venuto in due bellissime regioni che tra l'altro conosco anche abbastanza bene, essendo nato in Abruzzo e poi avendo vissuto l'infanzia nel Molise. Mio papà era un maresciallo dei Carabinieri. Ritorna nei luoghi a lui cari il generale di brigata Antonino Neosi, nuovo comandante della legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Arraiano in Abruzzo ci è nato 60 anni fa, in Molise invece ci è cresciuto. Nella cerimonia del passaggio di consegna a Chieti, Neosi si è soffermato sulle nuove sfide da raccogliere. Le sfide sono sempre tante perché le emergenze sul territorio, anche in un territorio apparentemente tranquillo, possono verificarsi da un momento all'altro. Io credo che quello che sia fondamentale per chi rappresenta questa istituzione è quello di essere presenti nel momento del bisogno, quindi esserci, esserci sempre, possibilmente prevenendo quelli che sono i fenomeni che possono danneggiare la collettività, ma soprattutto essere presente quando il cittadino ha bisogno. Il generale Neosi, accompagnato dal generale di Corpo d'Armata Antonio De Vita, comandante interregionale Ogaden, arriva in sostituzione del generale di brigata Paolo Aceto, che a distanza di poco più di due anni lascia un territorio in cui operano quasi 3.000 carabinieri. Lascio una terra bellissima, sia l'Abruzzo sia il Molise, perché la competenza del Comando Legione è su entrambi i territori, però una terra bellissima, fatta di gente generosa, di gente altruistica, e è una terra che mi ha consentito anche di riscoprire un po' le mie radici, perché io ho mamma che era abruzzese, quindi veramente un periodo a livello umano e professionale veramente molto positivo. Cosa farà adesso? Adesso torno al Comando Generale, da dove in passato provenivo, e sarò il capo del terzo reparto, quindi responsabile di tutto il settore tecnologico in senso più ampio dell'arma.